I carabinieri del NAS di Reggio Calabria, unitamente militari del nucleo ispettorato lavoro capoluogo reggino e collaborati della tenenza di Rosarno, a seguito di mirati controlli di attività ristorative nella piana di Gioia Tauro, hanno sottoposto a sequestro 700 kg di carne, salumi e preparati vari privi di tracciabilità e conservati in locali privi di qualsiasi requisito igienico-sanitario. Nel comune di Rosarno, infatti, un noto ristorante è stato sottoposto a dispezione, dalla quale sono emerse delle grave criticità igienico-sanitarie, quali muffa e sporcizia diffusi presso i depositi e laboratori per la preparazione di alimenti, risultati anche abusivi. Pertanto è stato necessario l'immediato intervento del personale dell'ASP, Dipartimento di Prevenzione, che ha disposto l'immediata sospensione dell'attività. Nel corso delle operazioni, inoltre, veniva accertata la presenza di un dipendente privo di regolare contratto lavorativo, la mancanza di sorveglianza sanitaria, l'ommessa formazione dei lavoratori e mancanti adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestate sanzioni per un importo complessivo di 33 mila euro, al termine di accertamenti di alimenti dovranno essere distrutti da una ditta specializzata.